ragazzi buongiorno a tutti siamo su red dungeon un gioco per telefono che come vedete la grafica è un po retro dovete andare avanti e raccogliere monete evitando tutte le trappole come questa e si ormai sono esperto perché ci gioco da se no cioè da qua bravo coglione sono caduto chiaramente ci sono varie abilità cominciate senza nulla non potete dovete andare avanti senza prendere un colpo io qua posso prenderne terra dire pure poi ci sono diversi personaggi diverse abilità la ho avuto le ragnatele che cavolo a te ok un'altra un'altra ma dai ma non sono concentrato ok ok adesso si va su se non si fa sul stereo mi sa che sono un po sbilanciato con le cuffie di solito sono più bravo ma ve lo assicuro sono arrivato a 600 metri io lo fa odio odio i pagli della luce elettrificati come cavolo si chiamano pazienza la parola d'ordine io non ne ho che dovrei fare poi sono i comandi che tu puoi usare il dito tu strusci col dito così eva avanti oppure le frecce come sto facendo io a me sembrano più facili attenzione qua non ho allagato allagato un attimo non avevo visto posso usare che la spada ma non la uso perché farei la fine del stavo scherzando vabbè voi non potete ma dai non sto facendo schifo passo dall'altra parte di solito sono più bravo sicuro ho già detto ma occhio alle trappole qua a queste cosa mostrante questa è peggio ancora pistrelli mannaggia loro quanti ne ho presi per fortuna che avevo la protezione sono passato da puoi prendere tre colpi a poi prenderne nessuno il giro di mezzo secondo un po complicata la prima volta non mi ha mai fottuto ma se meglio prevenire che curare e questi quarti sciottano questi invece guardate come un vero tirchio a no è un gioco interessa camion personaggio questo questo qua in pratica saldi le regnatele perché non ti beccano poi puoi spaventare la gente si spaventare l'ammazzo in pratica è come se fosse una bomba atomica solo che tu lo spaventi in realtà però non laghi perché qua se lagga crepi perché quanto di controllo schivato così cos'è ma dai ma perché devo far così schifo c'è un mini lag o sbaglio e stiamo concentrati concentrati così bene dovrei farlo più lentamente ma ma perdiamo ritmo sì se gli spaventi prendi anche monete e questo è il bello io ho fatto i big money con questo qua misteri alle ancora più avanti nonostante gli ho fatto scoppiare io il gioco io ho preso tempo con pokemon go l'ho disinstallato perché dovete fare le prove persone il gioco ufficiale esce il 15 io lo disinstallo e aspetto il 15 perché per colpa mia e degli altri abbiamo intasati server quindi mi sento un po in colpo no no 83 metri solo guardate quanti non fa di best 500 devo arrivare a 500 vi giuro arriverò a 500 prima o poi lo farò devo solo stare concentrato madò di quanto l'ho schivato 139 metri dai che stai andando benissimo perché non posso stare abilità stiamo andando meraviglioso spero di non portare sfiga meglio pazienti che morti e io paziente non lo sono non nel senso paziente paziente e dottore e il paziente paziente nel senso aspetto un'altra di queste cose sono facili ormai guarda che roba e fatte le faccio col dito medio ok questa qua è un po' più complicata un po' più complicata fortuna che parlo poco perché devo stare concentrato 318 318 ma mi è andato avanti di due adesso giuro è in un'opera muto è andato avanti da solo pensavo che avesse girato a sinistra ma concentrazione comincia ad andare a puttane sento di essere meno concentrato pensavo fosse schivato di un nulla questa può sembrare complicata ehi no i tre pepistarelli sono la piaga del gioco schivata dei eh quella trolla nooo non mi sei neanche avvicinato vi ho accontentato dai vi ho portato a sto gioco giocateci che dai è abbastanza buono sbloccate in un casino di persone c'è guardate uno questo qua è il primo due tre poi c'è sto qua e vabbè sti qua non li ho sbloccati e vediamo se riuscite a superarci il mistero è ancora più avanti di me quindi pensate dov'è sto nerd vabbè ragazzi vi è piaciuto continuate a seguirci e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti